Ciao ragazzi del Lead Racing Team, sono Roni Quintarelli Voi tutti, prima di tutto, amate il Gran Turismo La Motulotec Tienismo del Tienismo è la macchina simbolo del Super GT per le gare in Giappone e quindi sì, voglio vedere un campionato intero, un campionato interno con la mia macchina Sono sicuro che se partecipa io sarà impossibile battere due volte Guarda, la sfida diretta è con Diego attualmente Prima con Diego, poi vedremo Siete veramente bravi, complimenti Grazie a tutti